Oggi crescono piccole realtà che uniscono turismo e creatività. C'è chi si è inventato i tour guidati a bordo dei Seagway o chi organizza affollatissimi corsi di cucina in palazzi romani degni della grande bellezza. I americani, i giapponesi, i cinesi, i tedeschi vengono qui, imparano come fare pasta, pizza, eccetera, all'interno di spazi storici molto belli. Piccoli numeri, certo, ma forse è tempo di applicare questo spirito e questa creatività a tutto il turismo italiano.